Ragazzi ho appena avviato Brawl Stars e questo qui è quello che è successo, mi è uscito il premio della stagione 25 Sì perché oggi esce il nuovo pass quindi mi raccomando shoppatolo con il codice Sparks Supportatemi e andiamo a vedere cosa succede perché tra l'altro due ore prima del pass è uscito pure il nuovo brawler Lily Quindi finalmente potremmo riscattarla oggi con i 25 euro che abbiamo risparmiato e la shoppata iniziale di Lily Possiamo shopparci con 11 euro, un bel pass e abbiamo altri 11 euro da poter shoppare quando vogliamo Abbiamo 2900 crediti e due star drop, questi due star drop forse erano quelli là che erano rimasti in più Eccola Lily subito, porca paletta manco il tempo, cioè guarda qua subito sbloccato E che fai due partitelle non ce le facciamo con Lily? Immagina trovare subito uno star drop leggendale se da un gadget, non è impossibile Un coccolo abbiamo a livello 1, la stagione Godzilla è appena uscita quindi vediamo un po' cosa abbiamo Abbiamo il tick Godzilla mega, bellissimo questa qua ragazzi va shoppata assolutamente, anzi noi la shoppiamo subito Vi consiglio di andare direttamente nel Supercell Store perché shoppando dal Supercell Store si possono anche ottenere dei premi gratis Si possono guadagnare punti, bonus per ottenere dei premi tipo star drop, gemme extra Infatti se voi guardate qui ad esempio potete trovare l'overdrive a 349 oppure 5500 punti di energia e 7500 monete a 23 euro Ho addirittura 6000 bling, il pass a 1199 però ti danno più 500 punti, che sono sti punti? Se andate qua al percorso delle ricompense in pratica più shoppate dallo store più punti fate Ad esempio già da oggi ho ben 10 gemme gratis che arriveranno direttamente su Brawl Stars e le andremo a riscattare Ora noi dobbiamo fare, diamo un po' un paio di punti per ottenere questi premi Quindi se no shoppiamo adesso il pass direttamente da qui E mi raccomando quando dovete shoppare andate su finalizza ordine Cliccate su inserisci codice e mettete il codice Sparks Deve uscire la lineetta che è confermato il codice Sparks, se no non mi supportate Ok acquisto completato, abbiamo preso dei punti quindi abbiamo ottenuto un premio star e altri 5 gemme Torniamo adesso su Brawl perché in teoria dovremmo aver sbloccato ora il pass Articoli consegnati, premio star, 5 gemme, 10 gemme, Brawl Pass Plus Vediamo il primo coso raro, non troviamo niente Io volevo sbloccare prima il pass Ah comunque siamo arrivati a ben 20 milioni di preordini di squadbusters Quindi dovremmo avere 10 premi star nel negozio Vediamo un po', eccoli qua, li apriremo con calma Intanto abbiamo da potenziarci il nuovo Brawler Lily Vale potenziamolo al massimo, maxiamola Tanto possiamo farlo Io metterei questo qua che materializza, questa qua da 2000 Ora non so se sono le migliori però da quando ho fatto la prova sulla dev app mi sa che erano i migliori Mettiamo pure questa qua da 1000 che fa più danni Abbiamo per ora Lily al livello 1 La giocheremo in live pomeriggio quindi mi raccomando alle 5 venite in live e giochiamo Lily insieme E adesso andiamo a sbloccare anche il pass perché ne abbiamo 1 quindi attiviamolo subito Voilà 20% di progresso in più ragazzi quante robe abbiamo sbloccato 17 soglie Abbiamo già qualcosa di interessante tipo abbiamo le reazioni con le uova Tantissime monete, le monete le possiamo già prendere perché secondo me dopo tutta la spesa che ho fatto prima Anche i punti energia vediamo prendiamoci anche il plus Piliamoci le gemmuzze spese con il plus pure No i crediti no sbagliato porca paletta questi mi servono Non male che solo 100 dai devo stare attento Sparks stai attento Piliamoci altre 1000 monete Più 1500 Più 1000 Adesso si fanno un botto di monete nel pass ragazzi Ci pigliamo queste I bling per ora non li prendiamo Perché mi sembra che siamo full Anzi mi raccomando dobbiamo comprare una nuova skin con i bling Quindi consigliatemi nei commenti che skin posso comprare con i bling Devo consumarli per forza quindi ho bisogno del vostro aiuto Ok abbiamo preso tutto Il club sta traiardando per bene Domani torna Godzilla quindi non oggi Beh a sto punto facciamo così Andiamoci in duo Vai vediamo chi incontriamo dai Ora mi incontra qualcuno Ho trovato Sparks oggi che bello E invece no Ah sono entrato con i bot Inoltre ragazzi dovete dirmi voi Perché ho visto che stanno girando tutti i tag in questo momento Per quello di LOL e LL Ci sono i GX Il tag GX che è ritornato Lo rimettiamo nel tag SPX su Brawl o no? Guarditemi voi Già su Squad Busters l'abbiamo messo E stiamo già inondando tutto Dimmi voi se volete che lo mettiamo di nuovo Eeeh Questo la shottiamo Andiamo invisibili Andiamo invisibili Bravo bravissimo Scontro finale vai Bella la shottata Uhuhuh È fortissima Lili raga Vabbè che quella era un bot Però è fortissima lo stesso Non conta No no non ci frega niente Lili è fortissima Guarda come scappa Abbiamo vinto Traiardatissima Primi nuovi trofei con Lili E si traiarda Certo sicuramente non arriveremo Nelle top alte di Lili Perché ormai l'hanno shoppata quasi tutti Però se guardiamo un secondo la classifica Sì non penso che tutti l'hanno shoppata Dai Brawler Molti la sbloccheranno grazie come Sparks Vediamo un po' Sotto a novecenti L'hanno shoppata tutti i primi tempi Dovrei arrivare a 867 trofei Per arrivare in top 200 Ma anche no Ma anche no Ah ci sono due uova da aprire oggi Oggi succosissima la puntata allora Apriremo anche le uova Le uovette Ma perché non si vede più? Dai Ma dai Non si vedeva più la schermata Raga ma non ci credo Ma da quando? C'è stato un problema tecnico Quindi riprendiamo da qua E sarà che non ci si era tolta la schermata di Brawl A 16 power up Vabbè siamo contro i bot Porca paletta Ok abbiamo preso tutto Star drop raro Non so se per il maltempo o altro C'è stato purtroppo Un problema con la visuale Si era tolta da sola Si era interrotta Quindi riprendiamo da qua raga E dove siamo arrivati? Siamo contro Suki Dai Comprendi per il nome molto Esotico Andiamo a vedere se troviamo Andiamo al centro Vai vai Pighiamo seduto qua Io faccio ad aria Ti danno Giusto? Aiaia C'è perle C'è perle C'è spider Ma non è perle È spider Ma questo qua Ma io no no Non è come faccio Ah lancio io? Lancia lui sì Io posso fiondarmi solamente sulla gente Con la mia ulti Super fighissima Questa qua Eh volevi signor bull Chi è che mi sta lanciando? Signor barley? Signor barley Come si permette? Bravissimo gattino Un altro spider Ma tutti spider Ma si chiamano? Ah è quello di prima Gattino aspettami che quella è rosa Ti fa molti danni Niente Gattino super OP ragazzi Fortissimo sto kit Ne è rimasto uno nascosto Sarà sempre a sinistra I bot si nascondono sempre a sinistra Non so per quale motivo Infatti era un mortis Che nonostante sia un bot Continua a rimanere Uno dei più fedenti brawler del mondo Che fa si killa? Pure è stupido questo bot No è tornato in vita quell'altro Grande kit Grande kit Braga ha fatto tutti lui le kill Penso che non ho fatto due sole io Tutta la lobby in pratica Andiamo alla soglia 18 E sblocchiamo un altro uovo piccolino Bello Intanto ragazzi voglio sapere Se dobbiamo mettere nel nome Di nuovo il tag SPX Scrivetelo nei commenti Se vedo che tanti vogliono L'SPX nel nome E quindi rifare di nuovo Il nostro tag SPX Anche nel gioco di Brawl Stars Fatemelo capire Nei commenti Bombardandomi di commenti Che volete il tag SPX E io lo rifarò E ci riprenderemo Il nostro tag qui dentro E intanto riscattiamoci pure Le cose gratuite Che intanto ne abbiamo due Il codice Sparks Prima di shoppare il pass È importantissimo Perché se no non mi sopportate Tanto è gratis Siamo già 55 trofei Faremo altre 2-3 partite Perché comunque Le prime due non ci sono viste Perché c'è stato un errore E quindi dobbiamo rifarle Fino alla fine Quindi facciamo tutte Le 10 partite giornaliere di oggi Noi non ci capitiamo stavolta Mister Xenon Non penso proprio Che sia Non è lui Ah sono umani questi qua ragazzi Sono con Angel io Sono tutti umani Non erano bot per la prima volta Buono Allora se questo qua si può perdere Ma chi ho sparato un colpo Scusate Allora prima preso C'è una Melody C'è una Melody Aspetta Melody ormai si è passata di moto Va bene Porca paletta che combina Questo qua via Ma che ci combina Tu devi imparare a giocare contro i bot Quindi se sei andato a schiantare Adesso sono umani amico mio Sono esseri umani questi qua Non possiamo giocare come se fossero bot Qua c'è qualcuno forse Lì ci sono Cordelius E lili Eh si è messa bene quel team Buona Qua l'ho killato Ah ma sto creando il mio compagno di squadra Ragazzi Eccolo 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 Io ho 5 power up Lui uno Vai 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 Oddio Dai porca petta Ste cose fanno un danno Un danno assurdo Ste cavolo di note Vabbè io comunque la mia l'ho fatta Se poi c'ho Angle Che non fa nulla Io andrei a prendere subito Andrei proprio qua da Melody Così moriamo La killiamo subito così via Vai Killiamo la Melody subito Ce la leviamo subito Piliamoci No 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 Guarda quante lili Sono sparite tutte le lili Buono Non ci credo È sparita Dove va Dove va Eccola là Ma quindi non appare il coso a terra Quando Ci sta pure Christian Bella Eh qua sono dovuto andare via Oh cavolo Ci sta Melody con uno Io sono con 11 power up Ragazzi Super cariatissimo Il mio compagno di squadra Quindi io Ah ma io li vedo Quelli che vengono quindi Nella mia Nella mia Ragione azione No ho missato Ho missato il colpo Vai Vabbè ormai vai via Dai mi sta win E via Madonna l'ho cariato Daggi Doom mi dispiace Ma lo sparito con 16 power up Ha traiardato con lili Credo di avere comunque Una bella build E non è male la mia Perché comunque Se colpisco Vado dietro E faccio più danni Ci sta Raro Raro Niente È rimasto raro Tanto prendiamo solo credit Quindi noi ci facciamo qualcosa Melody ragazzi Brawl è rottissimo Nella Nella modalità Come si chiama Nella modalità Godzilla Fa un botto di danni ragazzi È qualcosa di assurdo Però possiamo fare più danni Porca paletta C'è due ore per fare una ghilla qua Questo che fa Vuole essere ghillato Perché Perché Oh Ragazzi Qua ho rischiato di morire E non si fa E non si fa E non si fa nemmeno questa qua Cioè non mi posso Nettare sempre Bella Bella combo Bella combo Signor Selleflore Dai ghilliamoci Sta Sta rosa qua Che vuole fare Ah non era l'unica Non mi direi che Una era a destra E una a sinistra Cioè veramente Sarebbe una cosa stupida Dai Ma che Ma che problemi avete Bot Che problemi avete C'è una a destra E una a sinistra Sono pazziti Ragazzi Ultima partita Svecchiamo l'ultimo Star drop Non sono ancora bot Perché sono easy Ok Io non sono bot Perfetto Siamo con Felfi C'è pure Coca Cola Contro di no Raga Sì ma sto spawn È orribile Cioè non abbiamo Non abbiamo Casse Ah c'è una cassa Quattro casse Buono Mi piglio subito Questa Così andiamo al sicuro Con un power up Mi piglio pure Quest'altra Una Due E tre E siamo già a quattro power up Lui Felfi si prende quell'altro Siamo a cinque Quelli sono scappati Mettiamoci al centro Felfi Così appena si avvicina qualcuno Lo killiamo Dai Va vai bravissimo 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 Felfi Aia Mi massacra C'è Cordelius Oddio Ti sei teletrasportato Dietro Cordelius È l'amico tuo Cordelius L'hanno messi qua Cucu Preso Preso Guarda 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 Vieni qua Vieni qua Ormai è fatta Ormai è fatta Oh no Come ha fatto a fallire la ult Questo qua Sta fang Vai 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 Perfetto Ucciso Adesso solo fang è rimasto Ma che fa che stunni Ma che stunni Aia Oh Mi sono salvato Mi sono salvato Dai l'ultimo colpo Dallo tuo Easy win Una sola kill L'ho fatta Messa dalla kill Più decisiva di tutte Troppino Super raro Super raro E niente Oggi Rimaniamo super raro Ragazzi ci vediamo In un prossimo video Like iscrizione Campanellina Ci vediamo anche live Alle 5 Bella